3 4 5 6 7 8 9 9 10 16 20 24 25 21 20 Signori, scusate, per il sentiero, dritti o a destra? Per la parte panoramica, diciamo, più carina? Io ti dico, quella più panoramica, via dritto e dopo in cima. Sì. Questa parte in cima, se intendi panoramica. Che è difficilina e ripida? No. Dipende fin dove, perché dopo hai un sacco di possibilità. Dipende fin dove vuoi stare in quota. Ok, comunque quella più carina, insomma, è questa qua dritta. Sì, andate via dritti e poi si apre tutta la visione sulla valle. Fantastico. Grazie, buona giornata. Ciao. Non vuole, vuole andare nell'altra stradina lui. Qual è l'altra? Quella lì. Mi piaceva andare sotto di là lui. Eh, ma proprietà privata, poi ci sparano, non si sa mai. Eh, sì. Ciao, bello. Non so. Sembra che abbia i calzini, che bello. Eh sì, tutti i quattro. C'è i calzini. Tutti in pandan. Che bello. Ma che bravo, eh? Di nuovo noi. Ma in su, trascina lui? Eh? No, puretta, no, è troppo. Una volta sì, adesso ha dieci anni. Ah, allora no. No, adesso poco. Buongiorno, vertigini. Buongiorno. Buongiorno. Vedi là in fondo. Non tirare. Eh sì, c'è il bau. Non tirare. Il lago di ravine l'acqua. Guarda che roba. Eh, tu hai visto il bau? Vedo coglioni. Tio, il bau. No, lasci lì. Buongiorno, vertigini. Buongiorno, vertigini. Buongiorno. 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 La minchia. ok a 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 ok noi abbiamo girato di qua perché siamo pampani e mi pampa nico spiegati cosa vuol dire vuol dire tipo tonti e adesso andiamo di la estate bellissimo non so se è la montagna o cosa la batteria è durata due minuti anche ieri le cariche al 100% dura due minuti contro i venti passa a 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 guarda 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 che natura ammira guarda 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 io non guardo a destra anche perchè sto guidando se mi guardo il Panoramation mi cava rosso foto è una figata si che povero quello col 125 che festegnava in salita l'RS dietro l'Aprilia che giornata fantastica e perché senza il ritorno lo spiego io glielo spieghi tu lo spiego io allora beh primo perché noi siamo un po' zingani dentro quindi sì bello un posto però ci viene sempre da cambiare cambiare capito e nel cambiare cambiare sotto ci sono i laghi che ci ero già stato morning camper ehi la porca puttana è andato il lusso che non siamo volati giù sta attenti qua eh e va bene dai andiamo a vedere i laghi cazzo ho premuto la frizione prima sembrava aver acceso il nostro aspetta che torniamo in seconda oh guarda questo si facciamolo piano cazzo che non ci si ribalti il camper da quanto è inclinato no dai fermo capo porta pazienza che ho il camper bravo eccola bravo grazie salut però vedi purtroppo come siamo schiavi almeno io di questa chimica del cervello cazzo io ero la c'è solo l'idea di partire già con le botte d'ansia mi sono preso veramente c'erano proprio i giri di testa delle vertigine capito anche perché abbiamo fatto il giretto il burrone io e lei quindi ci siamo portati dietro anche quell'esperienza e niente cazzo proprio i giramenti di testa ho preso 5 gocce di buck porca puttana sono qua che mi diverto cioè sono tranquillo incredibile guarda che veramente cioè guarda anche sto tornare questo si è fermato sto tornando in modo gentile però guarda occhio c'è uno che ha le vertigini grazie capo guarda che bravo tu vedi guarda eh eh sì e perché è tutto inclinato non capisci niente alla GoPro è tutto che uno dice cazzo mi si rappalta il camper e invece no guarda tranquillo che me la godo mi diverto ma proprio rilassato tutto per 5 gocce di di chissà che fiore no? incredibile e anche questa è stronti guarda che è ripida questa vedi e ci rido sopra adesso no perché mi sto anche auto analizzando prima fermo capo eh fermo non vedi che ho l'abitazione eh sono mister spazzaneve spazzaneve eh capo eh che bello con questo guarda rail di carta eh bello eh leggero eh ma cazzo certo che se guardi un mio video vieni su con l'ansia no vai tranquillo eh che veramente sono rilassato me la sto godendo proprio eh cioè non c'è niente di che basta che vieni su piano e come ti ho già detto ieri sei un camper merda eh un camper scadotto un camper vintage come il mio eh ciò te la ciucci tutta in prima che roba che esperienza la prima volta dai c'è in moto me lo facevo col zinocchio per terra in camper no cazzo non sono abituato io in camper sì sì cioè a vederlo così uno dice cazzo allora andiamo a girare il pianino eccola è molto piano se no qua veramente ti si incappota il camper eh porco cane stupendo comunque un consiglio che do quando sei in montagna che tu sia in salita o in discesa butta sempre l'occhio le stradine quelle più avanti per capire se arrivano macchine no perché quasi nessuno lo fa eh è una roba il fatto che cazzo sedi sti tornati prendi seriamente paura poi quando li fai è tutta una prospettiva ottica quando li fai è una cazzata vedi cioè sembra quasi dritto ma non parlo della telecamera parlo di te che guidi però prima porca puttana uno dice cazzo rinuncio boh basta parlare dei tornati parliamo di tete dai non è non è ma il rink ma dove sei andato a finire? dove in montagna? spiegami e razza dei zingani, sono da a fare dei kitornanti che ho altre nuove idee all'aerea forse sì, altri no, altri no ma mi sta venendo il dubbio, ma era Alberto Fulltimer quello che avevo chattato e mi aveva dato questo posto qua che non vado a odiare lui, che dopo non è lui adesso siamo un po' a Tarzo, un po' a Revine Lago e vogliamo andare al lago, ve lo vedi? Grazie